Oggi mangiamo soltanto prodotti proteici o light per 24 ore Solo perché c'è scritto proteico il triplo del prezzo Senza zuccheri e poi ai grassi del panettone Iniziamo dalla colazione e arriviamo alla cena Così proviamo un pochino di questi prodotti e li conosciamo meglio Iniziamo con la colazione, troviamo qualcosina di carino Ovviamente colazione, prendo il latte Proteico, gusto stracciatella, pure in offerta, si vola Per quanto riguarda i carboidrati ci sono le fette biscottate proteiche Però direi che 3,50 euro stanno bene dove stanno Stessa identica cosa direi per il porridge 4,50 euro anche lui sta bene proprio qui C'è per un po' di proteine del girasole Invece questi qui, protein scritto enorme, i cereali li prendiamo Anche se pure loro non è che costino proprio poco Ho evitato le fette biscottate e il latte era in offerta Ma mi è andata male lo stesso Allora, qual è il discorso? Qui c'è scritto protein grosso come una casa E poi in realtà ci sono 14 grammi di proteine per 100 grammi Quando dei cereali normali ne hanno 10 barra 12 Alla fine è anche un buon prodotto È un'ottima fonte di carboidrati Però ovviamente la scritta protein non serve a nulla E ha solo un valore di marketing Non è un caso Perché io 300 grammi di cereali L'ho pagati 3,60 euro Quando dei cornflicks con 3,60 euro Ne prendi un chilo Anche se qui c'è anche, devo dirlo Un po' di frutta dentro La cosa che mi dà ancora più fastidio Sono questi maledettissimi latte proteici È proprio scritto negli ingredienti Questi sono 300 millilitri di latte scremato E tipo 15 grammi di proteine in polvere Io ho speso 2 euro per questo coso Ed era in sconto Se prendiamo 300 millilitri di latte scremato Sono 30 centesimi E se prendiamo 15 grammi delle proteine in polvere Migliori di proteine super digeribili 93 grammi di proteine ogni 100 Zero carboidrati, zero grassi Volac Queste veramente sono proteine buone Costano questo Quindi che vi devo dire A meno che all'assaggio mi sembrano tipo un piatto fatto da cracco E non sarà così Non li comprerei Lattuccio dentro È molto cremoso però Se volete fare le proteine così cremose Le proteine in polvere Basta che ci aggiungete latte e le frullate O con un frullatore o con quel cosetto per fare il cappuccino Assaggiamo Madonna però la faccia è veramente bello Pensavo meglio Però non ho fatto una gran cosa nell'abbinare gusto stracciatella delle proteine e i mistilli Si prendono un po' pugni Vabbè vi dico è molto buono Noi ci vediamo al supermercato così andiamo a prendere qualcosa per cambio Il Todis ragazzi secondo me è uno dei supermercati migliori tra prodotti light o proteici Perché ha diversi prodotti del genere però effettivamente hanno dei buoni valori nutrizionali Io apprezzo tanto quando questi prodotti hanno meno grassi del normale Tipo amo la maionese light che secondo me è pazzesca Comunque ho preso Nutricotta che allora non è una ricotta È una specie di ricotta Ha dei valori che sono incredibili Cioè è tipo il petto di pollo E quindi ogni tanto ci sta Poi hanno anche questi affettati qui che io li prendo ogni tanto quando sono in giro Che questo tipo è prosciutto cotto ma ha pochi grassi Ha solo 2 grammi di grassi ogni 100 Che comunque cioè secondo me ci sta I grissini non li ho mai provati sono fatti con i legumi quindi hanno qualche proteina in più Comunque il trucco alla fine per questi prodotti è semplicemente guardare i valori nutrizionali Perché ci sono quelli che sono proprio 100% fregatura Però certi secondo me aiutano a dieta Allora qua facciamo una cosa gourmet Fetta di prosciutto Nutricotta e maionese light Preciso Grissino Facciamo un qualcosa che spero sia buono Oh ma che buonissimi Ma ma questi grissini Fai grissini Se li trovate provate questi grissini sono buonissimi Vi metto valori nutrizionali e ingredienti sullo schermo Ma che buoni Vedete per l'anno sono andato bene Con tutte le cose o proteiche o light Sono contento Bravo Todis Anche questa è proteica vero? Ragazzi è arrivata ora di cena siamo al Lidl Andiamo a comprare qualcosa Questo Lidl è stupendo Cioè penso la cosa più bella di prosinone Pagnotta proteica finita Poco male non prenderei mai il pane proteico Ragazzi non so se fare questo azzardo e prenderla Dai non costa tanto Valori nutrizionali vi dico niente male eh La prendiamo Questa è una cosa che non prenderei mai Però è giusto provarla E il risultato finale è questo Allora ragazzi vi dico ma già da quando l'ho aperta all'inizio Non mi sembra per niente male Pensate che carina che è Sembra molto meno una pizza surgelata Di tante altre pizze surgelate non light Dai su non è brutta Camera man che ne pensa lei? Mi sembra molto bella Però perché ho fame Ecco apposta Ne ho prese due ragazzi perché c'è anche la signora Con lei che comanda che porta i pantaloni in casa Ah Vedi quando dico cazzate Mi chiamano sorbillo Allora io ammetto che ero scettico Però i valori sono ottimi Ve li lascio qui A occhio Non mi sembra male E quindi la proviamo Come tutte le pizze surgelate del mondo Sembra un po' più una focaccia che una pizza Un'ottima pizza surgelata Oh ma è buona Oh allora Io ero partito un po' prevenuto E mo mi iscriverete Se c'hai voglia di pizza prendila al ristorante Allora Sì Se dovete sgarrare è ovvio che non prendete la pizza surgelata light È ovvio Non è che la pizza light deve per forza essere lo sgarro Per me ci sta Poi è ovvio che Muzilla due settimane dalla gara non si mangia la pizza light Però dipende sempre dalla persona che lo mangia e dagli obiettivi che ha È probabilmente la pizza surgelata migliore che abbia mai mangiato Ecco vedi A me questi sono i prodotti proteici che piacciono No quando c'è scritto protein Poi è una roba strafalsa C'hanno 700 grammi di grassi Questo c'ha 9 grammi di grassi per una pizza intera che è top È buona lo stesso Oh Ragazzi siamo arrivati all'ultimo passo di oggi Come vedete dal mio bel pigiamino io sto per andare a dormire Prima di andare a cena io adoro mangiare un dolcetto Sempre Mi fa dormire meglio No non è vero Semplicemente sono coloso Questo che è la giornata del proteico mi sparo una barrettina proteica Questa qui di Prozis Secondo me è una delle barrette proteiche migliori che ci sono Ha degli ottimi valori nutrizionali Ed è anche molto buona Che è comunque importante per questi prodotti Perché le ciabatte non le gradisco sinceramente Niente ragazzi se fate un acquisto su Prozis codice sconto luca yt Vi arriva il 10% di sconto più prodotti in omaggi E mi supportate Quindi vi ringrazio tanto Niente ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace Commentate condividete iscrivetevi E noi ci vediamo al prossimo video Io mi mangio la barretta E mi metto a nanna Ciao belli